193 È una buona osservazione 194 È un'altra storia 195 È un problema tuo 196 Sei divertente 197 너는 거짓말쟁이야 Sei un bujardo 198 넌 겁쟁이야 Sei un godardo 199 너 진짜 치사해 Sei spre제vole 200 한국에서 왔어요 Sono coreano 200 201 그는 내 남자친구가 아니야 Non è il mio fidanzato 200 due 200 due 이건 내 잘못이 아니에요 Non è colpa mia 200 tre 그게 중요한 게 아니잖아 Non è quello il punto 200 due 204 그건 좋은 생각이 아니야 Non è una buona idea 205 222 그렇지 않아 그렇지 않아 Non è vero 206 206 너답지 않은 걸 너답지 않은 걸 206 207 207 208 그런 거 아니야 208 Lou πgins 207 208 208 208 208 209 209 208 none è niente 209 209 209